oh salve a tutti ragazzi come va allora io sono appena ritornato a farmi il vaccino eccolo lì tutto a posto mi hanno fatto il pfizer ora devo la seconda dose devo entrare devo andare il 23 sempre di questo mese volevo fare questo piccolissimo video per informarvi di questo sono andato ieri dal tecnico che ho portato gli ssd adesso che gli ho spiegato anche una cosa che praticamente sulla mia scheramata come vi ho detto l'ultima volta ho due porte pc aia express una che praticamente quando tolta che praticamente quella dove adesso la scheda video è su sulla pila la batteria della della scheda madre quella lì del bios che fa batteri di bios e e niente dovevo togliere per forza la scheda video per levare la pila perché si era scaricata e nulla togliendo la scheda video si era si era praticamente staccato questo questa clip di supporto perché la scheda video come sapete viene mantenuta dalle viti ovviamente e dà corretto posizionamento la pc aia express io ho detto di provare a vedere perché siccome nel mio case lo spazio delle viti è molto stretto quindi con le mani non ci sono riuscito a avvitare ma ho preso una pinzetta piccola e con le punte sottili in modo che potevo fare evidentemente non magari non ho stretto bene quindi auto un po cioè si è mosso un po la scheda video ho detto di provare prima di fare la formatazione di mettere la scheda video nell'altra porta pc aia express che è intatta perché non ho due schede video ovviamente che cazzo mi faccio e e nulla questo è quando ragazzi questo volevo dirvi ci che c'è il risentio dai ciao